Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e vi porterò in un posto molto speciale che penso che nessuno di voi abbia visto o ci abbia mai girato. Questo posto si chiama Vup Karting e come sapete io ormai oggi è il 28 agosto, quindi due settimane fa sono stato in Slovenia e nel mio ultimo giorno a Ljubljana ho detto perché no, perché non vedere se ci sono delle piste di kart per tenerci un po' in allenamento visto che ho anche saltato le due gare estive e ce n'erano un paio e quella che mi ispirava di più erano tutte e due indoor, quella che mi ispirava di più appunto è stato questo Vup Karting che adesso vedrete e poi alla fine del video vi dirò com'era, carino, bellissimo dall'esterno, davvero bello, sono super organizzati in Slovenia, come vedrete dal video i kart erano elettrici e non andavano granché, però poi vi dirò. I kart avevano un display sul volante che da noi proprio non esistono e avevano un display dove ti segnavano i tuoi tempi, il tuo vest, c'erano scritte tutte le eventuali bandiere che uscivano e anche la pista era molto organizzata, pensate che sui reti linei, come vedrete, i reti linei erano un po' più larghi, c'erano delle strisce blu dove a chi davano bandiera blu si spostava sulla destra e tu potevi spostarlo molto facilmente. vi ricordo di iscrivervi, andatevi a vedere i video della Slovenia, di queste vacanze che sono state pazzesche e ci vediamo alla fine del video. e 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 vi sia piaciuto questo breve video dove vi mostro il footkarting di Ljubljana e stanno facendo dei lavori in casa e comunque mie impressioni pista molto bella da fuori come vi dicevo anche all'inizio e purtroppo i kart magari non sapevo usarli bene io ma c'era sul volante un boost però io provato a schiacciarlo ma non succedeva niente quindi kart andavano piuttosto lenti pista io l'ho fatta davvero gli ultimi giri li ho fatti tutti full gas cioè proprio non alzavo mai il piede e quindi carina perché la pista ha un po' di sali scendi con tutte le luci led molto scenografica però in realtà tanta scena ma la sostanza era poca quindi andavano molto piano i kart e come vedete anche dal video non da quel senso di velocità e niente quindi un po' noiosi infatti ho fatto solo un turno perché divertimento finiva lì e però vabbè esperienza fatta e sono contento di averli provati e grazie per aver visto il video e ci vediamo